Ecco che arriva il Canadair, dopo aver rifornito. Dopo aver rifornito nel lago di Massaciuccoli. Dopo aver rifornito nel lago, ritorna a spingere il fuoco sulle colline Lucchesi. Il mio canacci neri è al caldo, è caldo caldo. E' Ginevrina? Ciao Ginevrina! Ciao bellissima! Il gassone dietro di te che ti allusa sempre il posteriore, vieni qua. Ehi, sei tu? Il mio gas, eh? Che fai? È caldo? Andiamo giù, dai, su. Il 17 agosto 2009. E' caldo. E' caldo. E' caldo.